Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo video. I Kennepe Apocrifi, era da tantissimo che non ne facevo uno, anche perché è una rubrica che praticamente si tiene annualmente, visto che allo stato attuale vi sono solo due Kennepe Apocrifi che porto avanti nel tempo. Ossia, i giochi che ho finito nel corso dell'anno e i giochi che aspetto nel corso dell'anno. Quello dopo, o comunque quello prima rispetto a... Quindi, per adesso questi qui sono i Kennepe che abbiamo. In questo video tratterrò i titoli che ho finito nel corso del 2021, l'anno appena trascorso. Di per sé non è stato un titolo che mi ha dato tantissimi giochi finiti, però, sia per via delle live, sia per via di un certo titolo che vedremo alla fine, però nel suo complesso è stato abbastanza soddisfacente, anche perché, tra le cose ottenute, c'è anche la nuova generazione di console. Ma iniziamo. Ed iniziamo col primo titolo finito nel 2021, che in realtà si ricollega all'anno precedente, visto che il 31 dicembre 2020 io feci una live a Capodanno in cui avrei voluto e dovuto finire Crono Trigger, però non vi riuscì. L'ho finito il giorno dopo da solo e due giorni dopo il live. Quindi Crono Trigger, ufficialmente, è il primo gioco che ho finito nel 2021. Crono Trigger è un titolo del 1995 per Super Nintendo, realizzato da Square per le menti di Sakaguchi, Yuji Ori e Akira Toriyama, per la direzione di Takashi Tokita e la colonna sonora di Yasunori Mitsuda, Nobuematsu e Noriko Matsueda. Il titolo è uno degli RPG più acclamati dell'era 16-bit e, per quanto non ho potuto giocarlo al tempo perché ero più mi giochi Final Fantasy, il resto lo vedremo dopo, finalmente ho potuto recuperare, grazie alla versione estima per l'appunto, questo titolo e devo dire che si merita tutti gli elogi che ha preso. Il titolo utilizza una nuova versione di ATB chiamata ATB 2.0, realizzata da Kikomatsuya, e la sua storia si evolve attraverso diverse linee temporali che porteranno alla conoscenza di un male supremo. Si annovera senza problemi, si mette in mezzo e anzi ne supera parecchi degli altri titoli SNES realizzati da Square. Quindi, se vi piacciono i giochi di ruolo, ovviamente considerando che il titolo ha la sua età, se vi piace l'era 16-bit e vi piace il lavoro di Square dell'epoca, Chrono Trigger è un gioco imprescindibile. Proseguiamo col secondo titolo. Chi mi conosce sa che al tempo avevo riassemblato da poco un nuovo computer, ma non avevo ancora la scheda video. Appena presa, finalmente, in realtà aspettavo che tornassero disponibili come si deve, non è mai successo anche dopo un anno, dopo aver preso comunque una scheda video, ho iniziato a giocare quei titoli su PC che avevo da tempo, ma che non potevo giocare appunto per assenza di piattaforma effettiva. E il primo tra questi è stato The Witcher 2. Avevo già finito il primo col vecchio computer, finalmente ho potuto giocare The Witcher 2, Assassin's of Kings, rilasciato su PC e anche su Xbox 360. Abbandonando la figura punta e clicca del primo, l'esperimento del primo The Witcher, finalmente entriamo e ci approcciamo ad un approccio appunto più action RPG. Il titolo si fa forte sempre delle numerose scelte che il gioco dà, di una narrativa ben sopra la media normale, la storia è anche simpatica, ma la narrativa, il modo in cui vengono raccontati gli eventi all'interno dell'universo di The Witcher, in questo caso di The Witcher 2, è sempre un po' superiore rispetto alla media. Personalmente, per il modo di essere il gioco, il suo essere action RPG molto vecchio stampo, appunto un gioco di dieci anni fa comunque, e le diverse cose da considerare, ad un certo punto l'ho trascinato. Non perché il gioco non meritasse, ma perché mi richiedeva un livellaggio troppo elevato per quello che dovevo avere, per poi passare ad altro. Diciamo che non ci ho voluto perdere più tempo di tanto. Quando sono arrivato al boss finale, che non dico qual è, anche perché il gioco ti permette di avere diversi boss finali, sotto questo punto di vista, quando sono arrivato al boss finale, ho impiegato tantissimo tempo per batterlo. Avevo bisogno di livellare? Certo! Ho impiegato quel tempo? No. Quindi per quello, ad un certo punto, diciamo che The Witcher 2 l'ho chiuso, ho cercato di concludere il prima possibile, perché se no mi impiegava troppo tempo. Per quanto il condatore di Steam mi indichi 21,2 ore, che non è in realtà proprio tantissimo, però ci siamo capiti. Arriviamo al terzo gioco finito nel corso di quest'anno, ossia Picross DS. Allora, Picross, per chi non lo sapesse, è una derivata Nintendo del minigioco Nonogram. I Nonogram sono questi, praticamente, quelli che vedete in copertina. Per quanto qui li vedete sbrilluccicosi, metterò un video dove ve li mostro. I Nonogram sono un gioco, come il Sudoku, come i Cruciverba, questi qui, che si fanno forza dei numeri in cui bisogna riempire una grid, una scacchiera, inserendo i numeri indicati ai bordi. L'unica cosa che non dicono sono gli spazi. In base a quello, in base ai diversi incastri, bisogna realizzare il puzzle. Si parte da puzzle minimali, anche 5x5, arrivando a mostri di 20x20. Picross DS è realizzato da Jupiter. Jupiter, per chi non lo sapesse, è la co-creatrice, insieme a Square, di The World Dance with You. Dopo aver fatto quello, praticamente si è buttata nei Picross insieme a Nintendo. Picross DS, per l'appunto il titolo DS, di Jupiter, per quanto riguarda i Picross. Ed è meraviglioso. Ci ho investito un centinaio di ore, forse anche di più, perché per l'appunto il titolo dà tantissimi puzzle, e se i primi li fai subito, dopo un po' cominciano a impiegare del tempo. Puzzle che mi hanno richiesto anche mezz'ora di tempo per la realizzazione. Già mi ero infognato con i Picross da quando scoprì il mio primo Picross, sia Pokémon Picross, che rilasciarono gratuitamente sul 3DS. Per carità, gratuitamente era un free-to-play, dovevi recuperare la stamina, oppure potevi comprare i Picloriti, in base a quello che voleva. Dopo un po' avevi Picloriti infiniti, come se compravi il gioco. E quello lì è stato il mio primo avvicinamento con i Picross. Quindi sono entrato effettivamente nel mondo di Picross con Picross DS e ho scoperto le meraviglie, ho scoperto cose meravigliose. Ovviamente consigliato a chi piacciono i giochi del tipo, i giochi tipo Picross. Eventualmente prima di spenderci soldi, anche perché è un gioco DS, ormai questo non si trova più, o meglio, si trova facilmente nei mercatini, ho trovato tipo 6 nei mercatini sotto casa mia, vi consiglierei di provare qualche versione gratuita, eventualmente ne parleremo dopo. Entriamo nel quarto titolo finito, ossia Ori and the Will of the Wisps, di cui possiedo la Collector, o meglio, la possiede la mia compagna, ma siccome siamo una cosa sola, la possedgo anch'io, la Collector per Xbox One. Ori and the Will of the Wisps è un metroidvania realizzato da Moon Studio, sotto la coaudivazione, o meglio, sotto i soldi, diciamo i soldi, di Microsoft. Infatti il gioco esce per Xbox e PC, Xbox One nel caso specifico, e PC poi è stato rilasciato in collaborazione anche per Nintendo Switch. Il titolo per l'appunto è un metroidvania dal valore artistico meraviglioso, a livello artistico è qualcosa di eccezionale, il modo in cui è colorato, i paesaggi, l'intero art design, è una cosa spettacolare. e per quanto il gioco non abbia bisogno minimamente di una trama toccante, riesce comunque a darla, grazie anche alla sua poesia. Delle boss fight rispetto al primo capitolo ben più ponderate, e anzi, le boss fight di Ori 2, alcune nello specifico, sono davvero fatte bene, ed un combat system, oltre ad un sistema di movimento migliorato rispetto al primo, che già era eccezionale, ma qui è ancora di più migliorato, un sistema di combattimento finalmente effettivo, e che ha senso di esistere a dispetto del primo capitolo. Nel caso si possegga qualunque piattaforma, tranne una console Sony, Ori è un gioco imprescindibile, che ha tra l'altro diverse difficoltà, la difficoltà più alta è anche abbastanza rognoso, ha anche diverse difficoltà e quindi è abbastanza accessibile a tutte le tipologie di persone. Nel caso specifico esistono anche le collection dei due capitoli attualmente usciti. Non si parla di un terzo perché Moon Studios attualmente si sta occupando di altro, e l'IP appartiene a Microsoft. Andiamo al prossimo gioco finito, di cui non ho molto da dire in realtà, New Replicant, versione riprodotta, remake dal punto di vista specifico, Remastered Plus, secondo alcuni nominativi odierni, di Nier per PS3. Nier Replicant è la versione aggiornata del prodotto uscito per PS3 360 nel lontano 2010, doveva uscire durante il decimo anniversario, è uscito il giorno dell'undicesimo, e per l'appunto migliora, o meglio, svecchia quel titolo che era pesante. Ci fa utilizzare il protagonista esclusivo della versione giapponese, quindi togliendoci il protagonista che avevamo noi nella versione occidentale, e per quanto riguarda il gioco, quello che posso dire è che ho fatto un'enorme retrospettiva per quanto riguarda il gioco in sé, oltre ad aver fatto un video anche che elenca le differenze tra questa versione e la versione per PS3 360. Quindi il gioco l'ho già trattato ampiamente, tutta la parte post-trama l'ho anche portata in live per l'inutile e poderoso farming fatto per ottenere il platino, ma per il resto considero a livello di concettualizzazione e realizzazione il miglior videogioco realizzato da Yoko Taro. Purtroppo, rispetto ad Automata, Automata, sì, so che si dice Automata, pecca di gameplay. Ha un gameplay molto migliore del Nier del 2010, ma ancora ben sotto-automata, molto sotto-automata. Quindi, nel, quindi continuo ad essere, quindi in generale non può essere la mia opera preferita appunto per via del gameplay, ma è l'opera che più apprezzo tra i cinque lavori, tra i quattro lavori del Dragonverse realizzati da Yoko Taro. In realtà Yoko Taro ha curato anche i filmati di Dragon Guard 2, quindi sarebbe comunque un'opera curata da lui. Però vabbè, se ne parlerà quando si parla di Elere Mastered, forse, vabbè. Proseguiamo con Little Nightmares 2. Anche di questo abbiamo la Collector TV Edition, che tra l'altro fichissima, piccola, forse un po' troppo spoiler per quello. Sempre meglio della statua che davano al tempo, che quella è proprio spoiler del totale. Little Nightmares 2, per quanto in certi aspetti è meno schematico del primo, quindi sotto un certo punto di vista lo si preferisce meno per la sua successione di eventi, è anche un protagonista personalmente meno carismatico, riesce ad evolvere il gameplay, il modo in cui il gioco ti accompagna, la diversificazione degli eventi e anche le boss fight, perché in questi titoli è scontato forse avere delle boss fight basate su enigmi, però sotto certi aspetti diciamo che l'enigma deve anche essere intelligente, perché se ci fa un enigma e basta, finisce lì. L'enigma deve essere anche intelligente e in un caso si può dire che Little Nightmares 2 raggiunga il suo scopo. Per il resto il titolo è disponibile su praticamente tutte le piattaforme, PS4, Xbox One, Switch, anche Stadia nel caso specifico ed uscito di recente anche un bundle che contiene 1 e 2 nel caso si voglia provare l'esperienza completa. Anche in questo caso Tarsier Studio ha detto di non avere altri Little Nightmares sotto mano, anche perché l'IP appartiene a Bandai Ramco, diciamo che è un destino simile a quello di Ori. Proseguiamo con un titolo che ho giocato interamente in live, quindi non so come definirlo, nel caso vi direi di recuperare le due live che ho fatto al riguardo, ossia The Quiet Man. The Quiet Man è un'opera prodotta da Square ma sviluppata dagli Human Head Studio che adesso non esistono più tra l'altro, chissà perché. The Quiet Man è la storia di un ragazzo sordo che per in cui dovremmo fare delle cose per poi doverle rifare sentendo non posso parlare seriamente di The Quiet Man. Diciamo che The Quiet Man è un'esperienza che sono contento di aver vissuto e di aver vissuto anche in diretta nonostante tutto perché ti fa capire cosa sono le cose sbagliate. The Quiet Man ti permette di comprendere certe cose che nel video ludico non bisogna fare. La diciamo così. Ha delle cose interessanti. Diciamo che non è un titolo a cui darei uno ma neanche quattro se per questo diciamo che si manterrebbe sul tre per quanto riguarda quello che lui vuole dare al videogiocatore per caso perché l'idea è simpatica ci hanno creduto anche tanto hanno ingaggiato i Mojenepp per la colonna sonora o meglio per la canzone finale che tra l'altro è anche abbastanza figa e mi hanno bloccato due volte il video per colpa di quella canzone ma per il resto The Quiet Man è un'esperienza che recuperata poco e giocata per divertimento riesce a dare tra l'altro dura anche poco ma se lo si vuole prendere per un prodotto videoludico serio mi spiace però io aspetto The Quiet Man 2 chi è che vuole The Quiet Man 2? proseguiamo con Suck Boy una grande avventura sarei falso a dire che non sono un grande fan dei Little Big Planet non so se sono stato i non corretti spero di sì perché ho giocato e amato Little Big Planet 1, 2 e 3 l'uno tantissimo il 2 più degli altri il 3 l'ho apprezzato quanto basta diciamo così Suck Boy è una grande avventura tra l'altro uscito in contemporanea su PS4 e PS5 ma giocato da me su PS4 abbracciava la formula platform in maniera 3D a differenza degli altri Little Big Planet 2.5D questo qui è un platform totalmente 3D che vira sotto certi aspetti anche verso l'action per quanto riguarda il modo di combattere e così via ed è realizzato in maniera veramente figa il modo in cui Sumo Sheffield tra l'altro appunto non realizzato da Media Molecule riesce a confezionare il prodotto utilizzando la nuova ormai da parecchio tempo mascotte Sony riesce veramente a dare un'esperienza anche positiva a chi snobbava i Little Big Planet che si fondavano come maggiormente sul concetto di creazione come Dreams dopo di lui il titolo dopo averlo finito l'ho provicchiato leggermente su PS5 e le qualità tecniche a parte il framerate ma quello ok le migliori tecniche specialmente del DualSense il feedback aptico e così via danno davvero una linfa di qualità al prodotto l'ho comprato leggermente dopo rispetto al suo The One perché l'avrei preso subito ma perché attendevo di poter recuperare la Collector che infatti sono riuscito a prendere è uscito per l'Europa poi comunque a novembre avevo altre spese quindi l'ho rinviato e ho aspettato di poter prendere la Collector per l'appunto dall'altra uscita solo per PS4 la Collector però per l'appunto nel caso vi piacciono i platform 3D nel caso specifico è da provare ovviamente non è il platform 3D per eccellenza non è Super Mario 64 però comunque un'esperienza godibile specialmente da chi lo snobava perché questo qui tiene molto meno al concetto create ma molto di più sul senso del videogiocare nel frattempo siamo a metà 2021 e volevo giocare intermission e quindi entra a casa la PS5 la PS5 qui presente non la alzo perché sennò distruggo tutto entra a casa mia nel periodo di Ratchet & Clank intermission e nel mezzo anche la prova la prima prova di Stranger of Paradise post E3 diciamo la facciamo così ho finito intermission e fatto intergrade nel caso specifico di intergrade il boss segreto o meglio il super boss perché segreto non lo è Vice l'ho sconfitto in live quindi è recuperabile la diretta in cui l'ho battuto però per l'appunto per parlare di intermission probabilmente se ne parlerà quando rigiocherò l'intero intergrade quindi per adesso la finiamo qui l'altro titolo di cui ho preso la console bundle tra l'altro perché mi interessava parecchio Ratchet & Clank Rift Apart è difficile rinunciare al gusto di Ratchet & Clank per chi li ha giocati tutti sì mi manca tutti per uno e più forse però porca misè l'ho giocati tutti va bene è difficile esistere la deriva shooter action platform che Insomniac è riuscito a dare i mondi che sono sempre visivamente bellissimi la modalità appunto il motivo per cui il titolo è esclusivo PS5 ossia switchare rapidamente da una zona all'altra il modo in cui le diverse armi si intersecano nel gameplay di gioco la possibilità di utilizzare due diversi personaggi con due diverse spalle quindi non solo Ratchet ma anche Rivet l'unica pecca che penso sia condivisibile all'unanimità è la durata del titolo il gameplay diventa sempre migliore man mano che si prosegue però ad un certo punto comprendi che avresti voluto avere quei due tre livelli in più per utilizzare quelle meccaniche meccaniche che comunque sono utilizzate benissimo i livelli sono abbastanza diversi tra di loro anche nel modo in cui si gestiscono è difficile confondere due mondi una volta che vi sei dentro e lo vivi alcuni con meccaniche uniche tra l'altro una dimensione per Ratchet & Clank esclusiva PS5 oltre i tempi di caricamento già citati è il DualSense i trigger adattivi sono qualcosa di eccezionale ti fanno sentire il feeling nelle armi anche il feedback haptico ma ho trovato maggiore dal punto di vista del coinvolgimento l'inserimento dei trigger adattivi che migliorano tantissimo l'esperienza nonostante sia una cosa minore perché comunque è come senti il pad alla mano ma stiamo giocando con un pad io devo sentirmi integrato io sono il giocatore e io devo sentire non solo quello che c'è a schermo ma la piattaforma deve darmi attraverso degli input qualcosa di intelligente come i trigger come fu quando inserino la vibrazione sembrava una cosa stupida sì lo era no quindi per chi ha PS5 specialmente per l'assenza ovviamente di tantissime esclusive solo PS5 per chi ha PS5 ovviamente per chi apprezza il genere se non vi piace l'action platform shooter beat'em up scorra duro picchimento picchia duro era sbagliato già prima però ho voluto esagerare apposta Ratchet & Clank Rift Apart è un acquisto obbligato anche perché se no che l'abbiamo presa a fare la PS5 per aspettare Final Fantasy XVI per aspettare questi altri 16 anni non è bella finito Ratchet & Clank sono tornato nel mio backlog che è abbastanza grande come quello lì e fa parte del video di giochi da finire bene sono tornato nel mio backlog per finire The Order in realtà io ho iniziato The Order perché mi hanno detto che durava poco mi sono detto vabbè mentre aspetto che escano i titoli che mi interessano finisco sto gioco ma porca dura poco il cavolo invece ho passato almeno 20 ore non lo so dovrei andare a vedere 15-20 ore sicuro l'ho anche platinato quindi ho impiegato un po' più di tempo del normale ma non dura pochissimo come vogliono fare intendere cioè non dura meno di un Uncharted considerando comunque che Uncharted ha dato la sua tantissimi filmati questo è il giusto il gioco l'ho trovato comunque apprezzabile dal punto di vista tecnico dal punto di vista della realizzazione del prodotto le diverse armi la Londra dell'epoca la Londra vittoriana dell'epoca anche il paranormale l'abbiamo inserito all'interno ok fa parte della lore della Londra dell'epoca e quindi hanno comunque inserito delle cose la trama nonostante banalotta su certi aspetti è comunque interessante quindi comunque il titolo ha delle qualità che da come se ne parla in giro il gioco è penoso è brutto è corto no non ho minimamente riscontrato queste cose e anzi vorrei tantissimo che il titolo avesse un seguito meglio che Naughty Dog sotto certi aspetti prendesse ispirazione per quanto riguarda il gameplay è la modalità di espansione delle armi del prodotto le armi sono bellissime di The Order cosa che ovviamente per affacciarsi al realismo Naughty Dog non utilizza infatti l'ho chiamato Uncharted con le armi ad un certo punto quindi si è una copia di Uncharted con le armi ma è fighissimo per questo quindi questo qui The Order spererei in un futuro che possano fare una patch per PS5 l'ho giocato comunque su PS5 in retrocompatibilità ma per il resto nel caso riuscite a trovarlo a 4000 lire vi direi di prenderne 3 copie anche 4 poi ho dato un'occhiata effettiva al prodotto integrato nella console PS5 non posso mostrare perché in digitale ma questo già dice tutto Astro's Playroom Astro's Playroom è un piccolo titolo realizzato dal team Asobi che mi commento sempre con Asobo che sono quelle di Aplugtail di Microsoft Flight Simulator quindi Asobi plurale come Adobe Astro Boy Astro Boy Astro Boy è quello di Tezuka porca miseria ma c'è qualcosa che non fa confondere ok Astro Bot la demotecnica di PS5 è porca miseria il titolo è un platform anche abbastanza banalotto nelle serializzazioni ma innanzitutto è pieno di ricompense collezionabili intelligenti e level design di un certo spessore anche variazioni di gameplay quindi dal punto di vista del platform non è che è scarso al più è molto ripetitivo in certi aspetti ed è molto riciclato su aspetti precedenti ma comunque validissimo ma oltre quello sfrutta al non posso dire 100% perché magari domani uscirà un gioco che lo sfrutta meglio ma sfrutta tantissimo il DualSense feedback haptico all'estrema potenza dove ogni singola azione la senti sui tuoi polpastrelli i grilletti adattivi in base all'arco in base all'arma in base a quello che stiamo facendo bellissimo il gioco è presente in ogni playstation 5 e tra l'altro è una lettera d'amore è un ringraziamento a tutta la storia sony e anche un buon modo di rivivere l'intera storia sony quindi è lì se prendete una PS5 giocatelo e vedete quanto in profondità può andare il DualSense magari per poi rimanerci male perché sono pochi i titoli che attualmente lo sfruttano così ma ancora la console deve uscire no beh non esageriamo ancora la console deve dare il massimo di sé specialmente con i first party proseguiamo con un titolo io non dirò niente di questo titolo dirò solo che tra i titoli single player è il gioco dell'anno ed è tra i single player il miglior prodotto che Square ha dato in questa generazione deve uscire la più impressione lo so devo continuare uscirà dopo questo video di impressione ovviamente spero di farlo uscire prima di un anno dell'uscita del gioco non c'è altro da dover dire Neo The World and C2 fine proseguiamo con la patch 5.5 che quindi sancisce il finale stava per cadere tutto di Shadowbringers in realtà la storia di Shadowbringers finisce con la 5.3 che comunque ho giocato sempre nel 2021 quindi fondamentalmente la storia di Shadowbringers l'ho finita comunque nel 2021 per quanto poi le evoluzioni di gameplay quello che riguarda le patch che hanno aggiunto per quanto la 5.3 ha stravolto tantissimo dal punto di vista del gameplay posso dire che per finita appunto quest'anno quello che questa espansione di Final Fantasy 14 è riuscita a dare Shadowbringers è a livello di storia il passo avanti nell'evoluzione il passo maturo di Final Fantasy 14 che prima magari si atteneva a tematiche sempre mature ma comunque con un certo occhio di Shadowbringers no Shadowbringers punta a toccare determinate corde oltre a partire con un plot diverso dal solito di solito noi dobbiamo sconfiggere l'oscurità i Shadowbringers portatori dell'oscurità ovviamente a questo per quando riguarda l'intera trama dalla 5.0 alla 5.3 con anche 5.4 a 5.5 che comunque fanno da preludio alla prossima espansione riesce a dare tantissimo anche nelle sue cose extra che sia il ride di Eden che siano i contenuti Allianz di Nier qualunque Nier perché l'hanno pubblicizzato come quello di Automata ma non è solo Automata la buttiamo così e tutte le cose secondarie che hanno aggiunto nel mentre nota dimensione per il villain il villain è il miglior villain non che fa una fantasy 14 ma che l'intera serie abbia mai avuto non c'è da dire altro ci sarebbe da dire qualcosa in realtà ma non è questa la sede è il miglior sì ma quindi anche sì ma di quelli off sì la storia di Shadowbringers non è la migliore da vent'anni a questa parte perché è facile dirlo quando la gente non piace la trama di Final Fantasy la trama di Final Fantasy 14 nello specifico di Shadowbringers è la migliore della serie tutta proseguiamo con una doppietta di titoli in realtà integrati qua dentro perché qui c'è Lost Judgment e ce ne usciamo così ma all'interno di Lost Judgment ci sono dei mini giochi che sono giochi completi all'interno è presente Sonic Fighters un picchiatura arcade della serie di Sonic che sembra di Sega ovviamente che ho finito quindi io lo annovero dei giochi che ho finito quest'anno come se avesse finito Virtua Fighter 5 all'interno di di Yakuza l'avevo già finito prima quindi non mi conto l'avrei contato pure quindi io ho finito effettivamente Sonic Fighters avrei voluto rifinire anche Alex Kid quello l'ho finito al tempo però non ci ho fatto una volta ok quindi Sonic Fighters incluso all'interno di Lost Judgment nel caso specifico è Sonic in un picchiaduro abbastanza penoso sarei dire in realtà magari anche perché è comunque riadattato è un gioco arcade e così via diciamo che il titolo non brilla per bellezza è comunque un ripoff o meglio hanno preso gli asset dei Virtua Fighter e hanno infilato Sonic però diciamo che un conto sono gli umanoidi e un conto sono i pupazzi però va bene è interno è integrato quindi se uno prende Lost Judgment lo può comunque provare mentre parlando di Lost Judgment Lost Judgment è il seguito il sequel di Judgment sempre del Ryugagotoku Studio che alcuni chiamano Yakuza Studio non capisco il perché cioè non è che se lo apro e prendo la targhetta è scritto Yakuza Studio si chiama Ryugagotoku Studio ce lo so il perché magari lo chiamano no non chiamatelo Yakuza e dal punto di vista del gameplay evolve tanto il precedente che già comunque era la massima evoluzione del brawler avuto con gli Yakuza fino al 6 o comunque fino al Kiwami 2 nel caso specifico parlando appunto del Dragon Engine Yakuza 6 e Yakuza Kiwami 2 avevano un po' attenuato il brawler game per via del Dragon Engine Judgment lo rielevava all'estremo Lost Judgment lo innalza ancora di più per l'aggiunta di un nuovo stile per l'aggiunta di diverse tipologie di battaglie e del come il combattimento si interseca sempre all'interno del gioco e diverse subquest forse un po' meno rispetto al solito ma sono più concrete ci sono effettivamente meno subquest ma sono meno fetch quest quindi comunque quando è così datemi meno subquest ma più qualità oltre alla grande subquest la grande chain quest che comunque è presente già da un po' nei diversi titoli della serie a livello di trama l'ho trovato leggermente inferiore al precedente per via del tema più che altro il tema del primo capitolo mi ha colpito di più il tema del secondo è più sentito ma mi ha colpito di meno più che altro c'è una cosa che è molto spoiler che ad un certo punto mi ha fatto vedere il titolo sotto un occhio diverso magari se ne riparlerà in separata sede ma per quanto riguarda il titolo in sé è ovviamente un altro titolo di grande spessore realizzato da Ryukaku studio il brawler game di judgment riproposto e rilevato vediamo se riescono a fare un terzo capitolo purtroppo quello che si dice è che l'agenzia non vuole più lavorare con Sega l'agenzia che si occupa dei diritti d'immagine dell'idol comunque dell'attore del modello che dà il volto al protagonista vediamo come si mettono le cose anche perché Yakuza è diventato una serie RPG a turni e mi piace avere questa differenza questo doppio effetto un RPG a turni un brawler se mi togliete il judgment datemi comunque il brawler ma ormai mi era affezionato alla storia totale di judgment proseguiamo con Impostor Factory Impostor Factory è il terzo titolo effettivo anche se in realtà è il quarto quarta pagamento sesto overall della serie di To The Moon per quanto si chiamano Episodes non so se è un sovratitolo la serie Kangao ecco di Freeboard Games ossia quelle avventure grafiche fatte con RPG Maker che raccontano una storia dal punto di vista di Kangao To The Moon è uno dei miei titoli preferiti in assoluto per quanto come videogioco è pessimo perché videogioco in sé ha poco ma come storia è eccezionale il modo in cui è raccontata la storia è eccezionale a Bird Story e Finding Paradise trattavo un tema diverso che ho trovato meno appassionante per le mie corde che ha scavato meno in profondità nella mia anima per quanto la seconda volta che ho giocato Finding Paradise l'ho ritrovato in maniera diversa Impostor Factory ha premesso che To The Moon l'ho finito almeno 6-7 volte Impostor Factory credo che non lo rigiocherò mai più perché come mi ha fatto piangere Impostor Factory non è riuscito nessuno degli altri titoli il tema di Impostor Factory personalmente è sempre personale il tema deve toccare il tema overall può essere sentito o meno può essere trattato in un certo modo o meno e dal punto di vista della narrativa a Kangaroo non si può dire nulla ma poi uno per emozionarsi deve sentirlo il tema di Impostor Factory mi ha toccato tantissimo fin troppo ci sono stati dei momenti in cui mi sono detto questa cosa dovrebbe far commuovere questa cosa dovrebbe far commuovere e poi diventato perché questa cosa mi commuove Impostor Factory e ancora la strada per l'intera trama dei Freebird Games interna della Sigmund Corporation è ben lungi dal concludersi quindi altre lacrime in futuro ovviamente dipende sempre dal tema magari il prossimo tema è qualcosa di ultra toccante per gli altri e a me non fa né caldo né caldissimo proseguiamo con Picross S mostrei la Switch ma ce l'ho di là e se mi alzo cade tutta la postazione che ho creato quindi Picross S come Picross DS realizzato dagli Jupiter per DS e ci siamo capiti Picross S dopo i 7-8 che sono usciti per 3DS Picross S è la realizzazione di Picross per Switch ne sono usciti già parecchi e tra l'altro saranno ospiti delle mie live notturne non appena mi inizio a farle e per l'appunto Picross S è il primo ma perché non compri l'ultimo che magari ci ha preso puzzle la mente restano i puzzle se parto dal primo i quality of life li scopro pian piano e anzi alcune cose le hanno aggiunte tramite patch Picross S magari chiamata anche S1 adesso non lo so ma nel gioco si chiama Picross S è il primo di tanti titoli allo stato attuale in cui sto registrando questo video sono usciti 7 più alcuni speciali 3 speciali se non erro di cui me ne interessano solo tra l'altro dei titoli Picross realizzati da Jupiter per Switch e non c'è molto altro da dire se vi piace Picross sono acquisti assicurati tra l'altro li scontano abbastanza spesso e già di base il prezzo non è elevatissimo i primi costano 7 euro mentre gli ultimi 10 quando sono scondati costano di meno quindi eventualmente di alcuni di questi dovrebbero esistere ancora le demo quindi se volete provare il prodotto volete provare il Picross il nonogram effettivamente avete Switch perché i prodotti sono esclusivi da Switch Picross e un marchio di Switch i nonogram sono universali ma il termine Picross legati al nonogram è di Nintendo ci sono le demo per Nintendo Switch e ho provato perché quando al tempo finì i Picross su 3DS quelli gratuiti ho provato a trovare un'applicazione sul telefono che mi desse le sensazioni no non esiste stessa cosa con Sudoku quando al tempo ero fissato con Sudoku ho provato ad avere applicazioni per cellulare che mi dessero le stesse sensazioni su DS è la morte sua il Sudoku su Switch o le altre piattaforme in cui l'ho giocato è la morte sua per quanto riguarda Picross Picross S nel caso specifico ho finito per adesso solo il primo proseguiamo con Persona 4 Golden finito in live portato attraverso innumerevoli live uscito originalmente per PS2 nella versione base la versione base io arrivai al finale senza finirlo poi vidi l'anime e questa cosa un po' mi tolse l'appassionamento nel volerlo finire in prima battuta ma poi prima per PS Vita ma soprattutto con l'uscita Steam della versione Golden ho avuto la voglia di iniziarlo in live e quindi di finirlo in live in live abbiamo visto tutti i finali l'unica cosa che non ho fatto è stato battere il super boss segreto quindi Persona 4 Golden RPG di alto livello di Atlus sono riuscito finalmente a concluderlo il titolo utilizza l'ascino style che ha introdotto in Persona 3 visto che Ascino è il director di Persona 3, 4, 5 oltre che di Kefri in full body e anche di 10 Mega Man in 6.3 ossia il fatto di dover dividere il gameplay l'RPG con i social link quindi c'è questa doppia vita di vivere la vita del protagonista e scoprire cosa succede a Mayonaca TV quindi per cui l'unica cosa è che il titolo comunque è vecchio non nel senso poverino cioè è vecchio perché è uscito tanto tempo fa quindi utilizza una mentalità per quanto riguarda l'RPG vecchia che oggi può essere trovata non dico frustrante ma ripetitiva nel farming anche perché per via delle live ho potuto farmare poco quindi in molti aspetti ho dovuto ricorrere a quello che il gioco mi dava ma è bastato una volta una sola live di farming per pareggiarmi totalmente il gioco è molto farming based di base si fa forte per quanto riguarda i nemici base del Junk and Porn alcuni sono deboli ad un elemento alcuni sono deboli ad un altro utilizzo quell'elemento e via per i boss funziona sia del doverti difendere per quel determinato elemento e soprattutto trovare la giusta strategia perché la difficoltà specialmente difficoltà elevate diventa molto elevata però persona 4 golden attualmente è disponibile solo su pc via steam quindi nel caso vogliate un RPG vieni di questo nome anche per avvicinarsi al prodotto perché attualmente solo due persone sono disponibili facilmente a meno che non abbiate una vs3 in quel caso so tre nel caso abbiate un pc qualunque persona 4 golden potrebbe essere un modo per avvicinarsi alla serie nel caso abbiate giocato persona 5 e vi manca l'approccio con i persona è lì perfetto per voi uscirà prima o poi una versione su console chissà ma io l'ho giocato su pc quindi chi se ne frega proseguiamo con un'altra esclusiva ps5 oh su tre le ho fatte tutte vabbè anche il dlc in realtà no in realtà c'è qualcun'altra in più ma queste qua mi interessavano maggiormente demon souls demon souls l'avevo già giocato e finito su ps3 ma su ps3 era il mio primo souls quindi immaginate come ho giocato sono morto 100 mila volte prima di arrivare da phalanx ho barato per sconfiggere il falso reallant ho usato tempesta di fuoco per tutto praticamente e quindi era il mio modo di avvicinarmi ai souls al tempo demon souls ps5 si rifà dello stesso concetto ossia avere dei dungeon difficili ma delle boss fight simpatiche toh personalmente ho trovato poche boss fight difficili anche il falso reallant che comunque ricordavo traumatico non l'ho trovato così difficile i gargoyle ho trovato difficile infatti lì ho usato comunque tempesta di fuoco in ogni caso diciamoci scemo facciamo ok quindi demon souls è la riproposizione dell'anima di souls perché è il primo souls non un souls like un titolo che si ispira ai souls demon souls è il primo effettivo esperimento per i souls da cui poi deriva tutto il resto è per l'appunto riproposta con una qualità tecnica eccelsa oltre al solito feedback haptico in cui senti la freccia che è oltre i quality of life che possono essere stati posare l'inventario quando si trovano le cose e non hai spazio nella borsa o la pausa che si può usare in modello offline ovviamente la pausa che può sembrare una cosa stupida ma che aiuta per quanto non è proprio pausa la pausa è integrata nella fotomod però le cose si mischiano e anche altre cose come la fractured mode e così via il gioco comunque era di alto livello già prima torna ad essere di altissimo livello prima per tutto il resto quindi storia gameplay e quello che ne consegue ora dal punto di vista tecnico certo soffre un pochettino di quello che era la maledizione di Demon's Souls ossia alcune fight gimmick stupide non facili stupide alcune cose magari abbastanza disoneste con il resto un sistema di progressione magari non brillantissimo ma per il resto è comunque un titolo di tutto rispetto e ha perso la clanchitudine che aveva su PS3 quindi se su PS3 l'avete abbandonato perché il gioco vi risultava legnoso Demon's Souls PS5 gioco del The One non comprato da me al The One perché in realtà è un po' strano parlare di come ho avuto Demon's Souls io ho preso un bundle per PS5 per forza di cose perché è uno dei pochi modi per averla a prezzo di costo in questi bundle vi erano inclusi due giochi uno PS5 uscito da poco quindi 80 euro l'altro invece era Cyberpunk diciamo così che aveva il prezzo commerciale di 40 euro tramite un cavillo della catena ho potuto scambiare i giochi ancora incelofanati con prodotti equivalenti e il gioco Returnal nel caso specifico l'ho scambiato con Demon's Souls mi interessa Returnal? Sì! Ma mi interessano più Demon's Souls quindi ho dato priorità a Demon's Souls nel caso specifico ci avviciniamo verso la conclusione perché mancano due titoli uno in realtà non dovrebbe stare qui adesso perché se Shadowbringers l'ho messo dopo anche questo dovrei metterlo dopo però in questo caso la sua storia è conclusa iniziava lì e finiva lì Endwalker Final Fantasy XIV Endwalker Endwalker è ad oggi la mia espansione preferita di Final Fantasy XIV e penso che possa solo migliorare visto che possono solo aggiungere cose chiude dal punto di vista della trama quello che doveva chiudere con alcune piccole riserve per quanto riguarda determinate cose di cui se ne parlerà magari in separata sede ma per il resto oltre ad elevare ancora di più la narrativa che già Shadowbringers aveva di livello altissimo riesce a dare un villain magari banale sotto certi aspetti ma comunque interessante e scritto bene ed un'evoluzione dei personaggi passati e presenti sempre costante e sempre presente per il resto si può dire poco ancora degli extra di Endwalker perché ancora è uscito solamente il dungeon normale il Savage Ride quindi non c'è molto altro da dover dire però quello che si può dire è che se New York World XIV è il mio gioco single player preferito dell'anno Endwalker ovviamente è il mio gioco dell'anno per quanto forse dovrei andare anche un po' più in alto Yakuza Laker Dragon il mio gioco preferito della generazione Endwalker è il gioco online preferito della generazione la diciamo così li separo perché magari può essere brutto metterli vicini sotto questa cosa perché comunque Endwalker si fa forte di un progresso di vecchie espansioni per poter elevare al meglio questa però ecco la diciamo così la finiamo così non credo che la trama di Endwalker si superi a quella di Shadowbringers ma la preferisco la diciamo così la finiamo così ok ok e tra l'altro è colpa di sto gioco se ho dovuto rinunciare a tutto il resto perché ancora lo sto giocando originalmente mi ero pagato un mese di titolo per via del sovraffollamento dei server siamo a quasi due mesi e finché non mi scato il gioco a quello quindi se ho abbandonato tutto il backlog è per colpa di quel gioco appena mi scade vi assicuro che riprenderemo cioè riprenderò io per condominio a giocare i titoli sarebbero molto di più i titoli finiti quest'anno ma l'ultimo che vedremo l'ho finito in live Persona 4 Dancing All Night iniziato per conclusione per continuare dopo la conclusione di Persona 4 Golden comprato il bundle perché Persona 4 Dancing è infame dal punto di vista dell'acquisizione esiste per PS Vita per averlo per PS4 bisogna comprare l'intero bundle col 3 e il 5 perché è un extra se compri solo il 3 o solo il 5 il 4 da solo non puoi comprarlo devi comunque comprare la Midnight Channel Edition un po' come si chiama quindi ho dovuto aspettare la volevo fisica in realtà a un certo punto c'era 20 euro digitale mi sono scocciato e l'ho presa Persona 4 Dancing anche per la suonatura di essere un gioco nato per PS Vita è più che un riffle in game un gioco visual novel con delle canzoni al suo interno la diciamo così è una visual novel con all'interno delle sue canzoni le canzoni sono quelle storiche della serie di Persona 4 storiche quelle storiche di Persona 4 più qualcuna extra con diversi remix con anche nomi altisonanti Ibino della colonna sono i medagrassori 3 Akira Yamaoka c'è Akira Yamaoka che ha fatto un pezzo dubstep all'interno di Persona 4 per il resto la storia o se escludiamo diversi o propri scenici la storia è anche simpatica la trama è simpatica del prodotto i personaggi non tutti ma i personaggi nuovi sono abbastanza carismatici e il modo in cui le canzoni sono realizzate è comunque abbastanza decente nota di merito per le coreografie perché il gioco è più verso la coreografia perché il gioco in realtà parla del dancing del ballo non è che giochi la canzone col pad tu giochi il ballo col pad quindi questa cosa lo differenzia da quello che magari ti fa premere le cose a tempo super nota di merito per Specialist che è diventato ormai meme totale io non sapevo che già lo fosse io quando ho sentito Specialist ho detto ma questa canzone è bellissima la conoscevo già da Persona 4 base ovviamente mi hanno detto ma il ballo la coreografia Yuge balla in quel modo e così via fa anche rima che ne sia bellissimo ed infatti Specialist è diventato ormai parte integrante sia del mio cuore sia di quelli che hanno seguito la run di Persona 4 dancing in chat l'ho finito abbiamo fatto anche il finale segreto per quello che era purtroppo perché diciamo che è stata abbastanza deludente l'obiettivo è fare le ultime cose per platinarlo e questo è stato l'ultimo gioco che ho finito nel corso del 2021 l'ultimo titolo che abbiamo portato all'interno del 2021 solitamente i Kenpapocryfi hanno la mascotte ossia il funco di Mega Man ma per adesso non so dove sia quindi vi basta solamente il portachiavi va bene questo è tutto per quanto riguarda i titoli che ho finito nel corso di quest'anno prossimamente ma per quello ora ne riparleremo nel prossimo video i giochi che attendo e che giocherò probabilmente nel corso del 2022 io vi ringrazio per essere stati presenti come al solito se il video vi è piaciuto iscrizione like condivisione spread the knowledge che è sempre la cosa più importante e noi ci vediamo al prossimo video